In collaborazione con Glamvision e Caffacli. I TEA, tra burocrazia e lavori di ristrutturazione. In Trentino sono oltre 1200 di alloggi bloccati e sfitti. I sindacati dalla provincia, immobilismo sulle politiche abitative. Il Piazzi Ti vede il PD. Maestri, incontro molto positivo. Per le nazionali, difficile andare insieme per questioni di tempo. Ma per le provinciali, aperto il percorso. In Trentino si indaga su 52 animali uccisi e 37 episodi di maltrattamento. Il rapporto Zomafia della LAV. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero Glam. Con Glamvision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su Glamvision.it